L'autorità garante per il commercio Gcom nell'ambito della sua attività di controllo ha emesso nei confronti della Ruzzo Reti una moral suasion, ovvero un invito a rimuovere la carenza di informazioni in merito alle somme prescritte, comunque calcolate in bolletta, agevolandone la possibilità di eccepire la prescrizione degli importi o di chiedere rimborso qualora siano stati già pagati. Si riaccende dunque la polemica sul caro bollette dell'acquedotto Terramano che non avrebbe rispettato l'informazione agli utenti circa la prevista prescrizione biennale sulle somme non richieste ma comunque calcolate nelle bollette di conguaglio inviate a decine di migliaia di utenti legati alla Ruzzo Reti. C'è questo elemento di novità che la pronuncia della Gcom, la Gcom è competente per quanto riguarda l'antitrust, la regolazione del mercato e la correttezza commerciale da parte delle società che si muovono sul mercato. La Gcom ha bacchettato la Ruzzo per quanto riguarda la mancata indicazione dei periodi di prescrizione nell'interno delle bollette del gennaio 2020 con relativa modulistica per richiederne lo storno della fattura. La Ruzzo Reti a questa eccezione per quanto riguarda i ricorsi da noi presentati ha eccepito che l'ultimo trimestre di fatturazione del 2018 non rientrava nella prescrizione, ovvero la prescrizione individuata dalla finanziaria e poi introdotta dalla Rera è relativa ai due anni. Secondo la Ruzzo questa nel caso specifico era di due anni e tre mesi. Rispetto a questa cosa per i nostri associati abbiamo circa un 200 posizioni, abbiamo fatto un ricorso alla Rera che è un corso di esame e quindi di decisione chiedendo una precisazione rispetto a questo aspetto che è molto particolare e che la Ruzzo ha precisato. Laddove questo aspetto che ha precisato la Ruzzo è corretto e chiaramente anche questa eccezione che è stata elevata dalla Gcom viene a cadere in quanto non c'era nessuna prescrizione da indicare. Quindi è fondamentale adesso il giudizio della Rera perché è l'unica chiamata a dire se c'è stata correttezza nella fatturazione dell'ultimo trimestre del 2018.